Buongiorno, sono Demetri Foroghi, responsabile commerciale per la zona Italia-Svizzera-Medio Oriente di Avaluwe, leader mondiale nella costruzione e sviluppo di Seamless Weecher. È presente sullo stand di Infocom Midolist da ormai da 4 anni, in quanto il mercato medio orientale si presenta oggi in uno dei mercati più importanti e più interessanti per la commercializzazione del nostro settore. Questa è la quarta edizione in cui noi siamo presenti, Infocom è una buona opportunità per noi per entrare in contatto con i locali rappresentanti di tutti quelli che sono, di tutto quello che è il mondo dell'integrazione, di tutto quello che è il mondo dell'evento, che è ancora attualmente il nostro principale mercato. In occasione di Infocom Midolist siamo lieti di annunciare la nuova gamma Midra, è una gamma che va a rinnovare la precedente gamma MMS che avevamo presentato a ISE 2009. In particolare presentiamo sullo stand il nuovo Pulse 2. Pulse 2 è una macchina che rinnova completamente quello che era la precedente versione Pulse con delle nuove capacità e con delle nuove performance. Abbiamo migliorato tutto quello che è la parte di connettività, quindi abbiamo incrementato notevolmente il numero degli ingressi digitali e attualmente possiamo contare su 8 ingressi True Seamless con la possibilità di collegare fino a 14 device come sorgente. Con la nuova tecnica che abbiamo preso dalla serie High Range Live Core abbiamo la possibilità di fare un fast switch, quindi una commutazione veloce tra i diversi connettori presenti sulla macchina. Inoltre sul nuovo Pulse 2 abbiamo la possibilità di fare, oltre che alla funzione del principale mixer, abbiamo la possibilità anche di avere una funzione matrice con due schermi completamente indipendenti con un layer to Siemens per ogni idronica. Oltre a questa nuova funzionalità abbiamo la possibilità anche di avere una novità su tutta la gamma che abbiamo chiamato Quick Frame. In pratica è un layer che può essere in qualsiasi momento sovrapposto a tutti gli altri layer al fine di fare delle modifiche immediate a quelli che sono i layer sottostanti. Oltre a questo abbiamo anche migliorato tutto quello che è la parte di conversione dei segnali in bassa qualità, risviluppando tutto quello che è gli algoritmi di conversione e di interplacciamento dei segnali in bassa qualità. Oltre a questo abbiamo inglobato all'interno della macchina tutto quello che è la parte audio. Quindi sono sono macchine che oltre al mercato dell'evento si ben adattano al mercato dell'integrazione. Grazie! Grazie a tutti!